Si è chiusa con un sontuoso banchetto a Buckingham Palace la prima giornata della visita ufficiale di Xi Jinping nel Regno Unito. Il presidente cinese, la cui presenza favorirà la finalizzazione di accordi commerciali per un valore complessivo di decine di miliardi di euro, è stato accolto con tutti gli onori dalla regina Elisabetta. Le relazioni tra il Regno Unito e la Cina sono ora una partnership globale. Abbiamo molte ragioni per celebrare lo sviluppo di queste relazioni economicamente vantaggiose per entrambi i nostri paesi e il nostro successo nel lavorare insieme per affrontare le pressanti sfide internazionali. A poca distanza un piccolo gruppo ha manifestato per il rispetto dei diritti umani in Cina e per la libertà dei tibetani. Preoccupa anche la concorrenza sleale fatta da Pechino alle acciaierie britanniche con politiche di dumping. Grazie a tutti.